bene il piede e il bisex adesso è live e che c'è ah ah non so ah 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 allora vediamo se va basta la piatta di 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 ho accettato ed in dettagli dei e che e chi è vado di donna all'inizio lo compiato e va bene buon divertimento a tutti benvenuti in live allora allora che devo fare l'hotelino non c'ho i soldi belotti si e lui è qui eh si già come è il momento che mi arriva tutto da giorni per bilancio cerco il terzo buono e rispondo la roba pubblica devo rubare 40 dollari ragazzi tieni 40 dollari ma pensavo io credo che mi arriva tutto la roba pubblica è stata una roba pubblica sei che sui quindi la roba pubblica non mi chappi mi chappi esodo la non mi chappi 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 ciao ciao non mi chappi non mi chappi non mi chappi piero si pietro ah pietro si o no di più si va bene si o no 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 si o no